amiche amici di ciclo web sotto questa luce tremula serale purtroppo l'ora solare ci è nemica spero che la aboliscano quanto prima mi accingo a fare questo confronto tra il giro d'italia il tour de france che vi avevo promesso la settimana scorsa tra i due percorsi del 2019 presentati entrambi il giro l'ho commentato il tour non ancora mi avverrò delle altimetrie perché la settimana scorsa un utente danilo de luca mi ha detto ma perché non hai messo le altimetrie almeno capivamo meglio il tuo commento di ragione non ci avevo pensato lo faccio oggi mettendo a confronto le altimetrie delle due corse laddove quelle del tour non sono tutte disponibili perché purtroppo i francesi gli organizzatori francesi hanno questa malsana abitudine di non rendere subito disponibili tutte le altimetrie ne mettono solo alcune anzi va già meglio rispetto al passato perché prima mettevano solo le 4 5 tappe di montagna adesso ne mettono un po di più solo che la qualità è pessima perché sono piccolissime alcune proprio inguardabili invisibili e poi sgranate ma non so chi fa queste cose cioè il sito della corsa numero uno al mondo vabbè allora andiamo col confronto faccio prima un assunto perché sennò poi se lo faccio alla fine non ci arrivate allora tre cronometro il giro d'italia due cronometro il tour de france di cui una cronosquadre già c'è da dire che la tappa d'apertura e la tappa di chiusura segnano proprio un netto successo del giro perché sono due cronometro contro due tappe da velocisti quindi c'è poco da da competere sette tappe da sprinter al tour de france sei al giro d'italia poi abbiamo cinque tappe mosse sia da una parte che dall'altra sette tappe di montagna sia da una parte che dall'altra e diciamo che il confronto tra le sole tappe mosse del giro del tour vede secondo me una leggera prevalenza di quelle del giro sono più interessanti nel complesso rispetto a quelle del tour idem le sette tappe di montagna nel complesso quelle del giro sono meglio un po meglio rispetto a quelle del tour de france ma andiamo a fare il confronto tappa per tappa giornata per giornata e già che poi vi parlo un po del percorso del tour la prima frazione giro d'italia bologna cronometro del san luca come vedete con l'arrivo sul san luca conosciamo benissimo al tour de france invece c'è una tappa da velocisti a bruxelles si parte da bruxelles in onore per omaggiare edy max nel cinquantesimo della sua prima vittoria al tour de france ed è una tappa da velocisti in cui c'è questa tappa di bruxelles in cui c'è il muro di grammont il mur il cappel mur gerrarsbergen come lo volete chiamare comunque lo chiamiate da sempre oltre 100 120 km dall'arrivo e quindi già all'inizio parte col piede sbagliato prudono perché vedete vi metto il mur però lo metto a 150 km alla fine quando non avrà nessuna diciamo utilità nell'economia della corsa così dovete subito iniziare a rosicare e noi rosichiamo però il punto lo diamo a bologna 1 a 0 per il giro dopo questa prima tappa seconda tappa il tour ci offre la crono squadre sempre a bruxelles non abbiamo le altimetrie ma comunque sono tappe piatte queste il giro presenta la tappa di fucecchio una tappa che valica gli appennini e che si chiude con delle salitelle tra cui il san baronto però diciamo che non essendo questa tappa del giro particolarmente significativa dal punto di vista altimetrico diamo la preferenza alla crono squadre che comunque chiamerà all'azione sicuramente gli uomini di classifica i favoriti quindi 1 a 1 terza tappa da un lato orbetello tappa da volata molto facile dall'altro tappa di e per ne che è anche una tappa non difficile però ha un finale ultimi 30 km come vedete nell'altimetria molto mostro con tante salitelle una dopo l'altra e quindi diamo il punto al tour de france 2 a 1 sperando e pensando che ci sia spettacolo in quel finale quarta tappa sono due tappe da volata al giro abbiamo l'arrivo di frascati in leggera salita come vedete al tour abbiamo la tappa di nancy che invece è completamente piatta ma non abbiamo l'altimetria comunque il punto lo diamo al giro perché se non altro su quell'arrivo vedremo all'opera dei velocisti un po diversi rispetto ai soliti quinta tappa al giro terracina altra tappa da volata velocisti al tour col mar col mare l'approdo ai volgi e questa è una prima bella novità della costa francese cioè questo precoce arrivo già alle tappe di montagna tra la quinta e la sesta tappa si sale insomma è una buona notizia per chi vede come il fumo negli occhi quella lunga sequela di tappe interlocutorie quindi terracina da un lato col mar con due salite interessanti nel finale su cui potrebbe succedere qualcosa o anche no ma comunque sicuramente lo schema non sarà quello classico di una tappa da volata e quindi punto per il tour de france 3 a 2 per il tour sesta tappa al giro abbiamo san giovanni rotondo primo arrivo in salita più o meno si arriva al santuario e va bene sarà una tappa che chiamerà l'azione gli uomini di classifica ma i quali faranno gruppetto secondo me ci saranno grosse differenze al tour invece abbiamo ecco qua eccola qui la tappa di la planche de bf e questo è un vero e proprio tappone signori miei sono sei gran premi della montagna in 157 chilometri tra i quali troviamo il gran ballon il ballon d'alsas poi soprattutto il col de chèvrier penultima salita durissima ancorché breve e poi la tipo alla planche de bf dove ricordiamo due anni fa fabio aru fece i numeri invece forse l'impresa più bella della sua carriera o comunque la più importante andando a vincere davanti a tutti i favoriti del tour de france è una tappa molto interessante anche se le quote ovviamente non sono altissime si sta sempre sui 1200 1300 metri al massimo però è un'etapa che rischia di essere addirittura la più bella tappa tra quelle di montagna del tour de france quindi facciamoci delle domande comunque 4 a 2 per la gran bucle in questo caso settima tappa al giro abbiamo l'aquila altura abbiamo shalom di cui non abbiamo l'altimetria tappata velocisti mette la tappa dell'aquila la tappa mossa percorso che avrebbe potuto essere anche più intrigante ma comunque qualcosa offre se non altro nel finale quindi 3 a 4 il giro si avvicina ottava tappa da un lato pesaro con con questo in questo territorio marchigiano sprecato senza i muri marchigiani che dovrebbero invece esserci dall'altro lato se ne tienne una tappa mossa come da tradizione per la tappa di saint etienne sicuramente una frazione da fuga però una frazione in cui i big dovranno stare con tanto d'occhi aperti per cui diciamo che do il punto al tour de france anche per punire la mancanza dei muri 5 a 3 per il tour de france non la tappa da un lato la cronometro di san marino il cronometro molto difficile sia da disputare che anche proprio da interpretare per la diversità diciamo di percorsi al suo interno al tour de france c'è una tappa anche anche bella anche interessante quella di briud un'altra tappa un'altra tappa mossa con una salitella il finale cote de saint jules che promette insomma di causare qualche qualche mal di testa a qualcuno però insomma tra le due la cronometro è sicuramente più importante quindi diamo il punto al giro d'italia che si porta sul 4 a 5 decima e undicesima tappa sono sia da un lato che dall'altro due volate al giro abbiamo modena e novi ligure al tour abbiamo albi e toulouse le due del tour sono inframezzate dal riposo mentre per quanto riguarda il giro si riposa dopo la crono di san marino comunque direi no contest per entrambe le tappe risultato che resta invariato 4 a 5 in favore del tour de france dodicesima tappa si inizia a salire al giro e anche al tour sui pirenei pinerolo giro d'italia vediamo la salita di montoso a 40 chilometri dal traguardo dall'altro lato anche c'è un arrivo non in salita in discesa bagnere de bigor dopo la dopo la la salita di urquette dan sisane 30 chilometri legge la discesa ora onestamente secondo me succede succederà di più nella tappa del giro per una serie di motivi alcuni ve li ho anche indicati la settimana scorsa altri ve li posso dire oggi insomma tour de france il pire sur che è la prima delle due salite di questo finale di tappa è una salita che io ormai detesto dopo tanti anni perché c'è sempre ma non fa mai la differenza una salita che semmai appiana diciamo le differenze non non le amplifica tende sempre a narcotizzare la corsa una salita che ormai vedo come il fumo negli occhi meglio la urquette dan sisane insomma dei tratti sicuramente duri se non altro nella prima parte e vediamo questi 30 chilometri finali diamo il punto alla tappa del tour de france rispetto a quella del giro d'italia insomma bene o male si si equivalgono sei a 4 per il tour tredicesima tappa da un lato abbiamo cere sole reale questa è una signora tappa anche se come dicevo la settimana scorsa magari non ci sarà lotta nelle prime salite però sono 30 chilometri 35 la salita finale anche molto duri nulla di paragonabile invece alla corrispondente frazione del tour de france quella di po cronometro di 27 chilometri stessa lunghezza della cronometro della cronometro squadre tra l'altro una crono breve con salitella insomma non una delle cronometro che a cui ci abituato il tour de france in linea sicuramente con la politica di prud'homme di questi ultimi anni di diminuire i chilometri contro il tempo però fra le due tappe non c'è veramente paragone punto per cere sole reale e giro che si porta sul 5 a 6 quattordicesima tappa da un lato abbiamo courmayer con il san carlo che sicuramente determinerà un finale a dir poco scoppiettante con l'arrivo in leggera salita a courmayer dall'altro lato tourmalet sono due tappe brevi courmayer 131 chilometri tourmalet 117 chilometri la tappa del tourmalet vede il sulor col desulor che passerà in vano come al solito e poi c'è questo arrivo sul mitico tourmalet che però a livello sia tattico ma anche proprio tecnico secondo me non non dà la stessa possibilità di vedere grandi cose come invece succede nella tappa delle alpi occidentali in italia per cui punto al giro sei pari poi ci torno su questo discorso tourmalet ne riparlo anche dopo le tappe alpine quindicesima tappa giro italia c'è il simi lombardia con la tappa di como finale ritagliato proprio sul percorso del giro di lombardia al tour de france c'è invece la tappa di foix altra tappa ultima tappa pirenaica questa è la tappa la più interessante fra le tre pirenaiche secondo me perché dopo il col de l'air c'è il durissimo mur de peguer e in cima prevede anche degli abboni questa è un'altra novità di prudhomme che cerca in tutti i modi di testare diciamo nuove formule perché si rende conto anche lui che il tour non va e poi arrivo a foix a una salita che ha nei primi chilometri dei tratti anche abbastanza duri per cui mi sembra una tappa da promuovere e do il punto a foix nei confronti della pur interessante tappa del simi lombardia 7 a 6 per il tour de france sedicesima tappa il giro ci offre il suo apice ponte di legno tappa di ponte di legno con il gavia e poi il mortirolo il tour offrono un'anonima tappa di da volata annimo per cui sette pari è inutile ritornare sulla tappa di gavia e mortirolo insomma un tappone come ce ne vorrebbero sempre diciassettesima tappa qui il giro offre l'arrivo in salita ad anterselva che come dicevamo non è un arrivo in salita da far tremare i polsi in maniera particolare però è pur sempre un arrivo in salita nella terza settimana quindi da prendere con le molle su una salita anche poco nota rispetto ai classici diciamo alle classiche traiettorie del ciclismo e quindi dall'altro lato invece abbiamo la tappa di gap che è una tappa interlocutoria di avvicinamento alle alpi una tappa che ha anche degli aspetti interessanti purtroppo non c'è l'altimetria avrei voluto tanto vederla ma non l'hanno non l'hanno messa c'è nel finale il col della sentinel che potrebbe anche smuovere le acque comunque tra le due do il punto a anterselva al giro d'italia proprio perché è un arrivo in salita e andiamo sull'otto a sette per il giro ci avviciniamo alla fine diciottesima tappa al giro tappa tavolata santa maria di sala un giorno di riposo tanto agognato dai corritori al tour tappone di valois con var isoar e galibier e poi arriva in discesa a valois naturalmente qui il punto va al tour de france che va sull'otto pari però poi ci torno su questa tappa come anche su quella del tour malè per fare un discorso generale diciannovesima tappa il giro offre arrivo in salita san martino di castrozza ma è una rima salita veramente deludente a mio avviso mentre il tour offre con la tappa di ting se non altro il passaggio sull'isaran che non vedevamo non vedevamo da un bel po di anni salita altissima oltre 2007 forse anche oltre 2008 dopo controllo e poi c'è la salita finale di ting una tappa breve 123 chilometri qualcuno può sperare che ci si muova già sull'isaran io la vedo la vedo difficile la vedo difficile però comunque la salita finale chiamerà l'azione e il percorso nel suo complesso è sicuramente migliore della corrispondente tappa del giro per cui 9 a 8 per il tour de france vettesima tappa qui si equivalgono più o meno le due tappe do una leggera preferenza al giro perché vi spiego croce daune da un lato va al torrens dall'altro tappa di croce daune è una tappa in cui è vero che la salita più dura è a oltre 100 chilometri dall'arrivo ma il mangan che è veramente una salita dura e che nel finale può fungere veramente da trampolino per chi volesse tentare l'impossibile attaccare a oltre 100 chilometri dall'arrivo poi di mezzo ci sono gli 80 chilometri del passorolle tra salita discesa di fondo valle come vi dicevo e quello è un tratto veramente complicato per chi volesse andare all'attacco però se non altro ha il trampolino su cui provare a smontare la squadra del tuo rivale diciamo o a metterlo già in difficoltà e per metterla sull'uno contro uno e poi c'è una salita finale che comunque è una salita degna abbastanza dura questa del tour de france invece ha all'inizio la cormé del roselan che è una salita che ha dei tratti sicuramente impegnativi ma che poi addirittura spiana un po nel finale diventa più facile in mezzo c'è una cote come la cote dell'angefois che dice poco e poi c'è quest'arrivo interminabile questa salita interminabile di valtorans 36 chilometri su cui ci ricordiamo pantani il primo pantani del 94 fare mirabilie dopo che si era infortunato aveva picchiato il ginocchio cadendo su una salita precedente poi si riprese e fece dei numeri anche se poi non vinse la la vinse mi sembra caccaito rodriguez contro urumo una volata a due fantastico però è una salita che va su a gradoni ci sono tre chilometri al 7 per cento poi non sono pendenze eccessive poi tre chilometri in pianura addirittura alcune discesine ma è una salita su cui puoi secondo me imbastire un tutti contro tutti o un testa a testa decisivo determinante certo poi gli ultimi cinque chilometri sono un po più duri un po più regolari nella durezza e quindi temo che per quanto riguarda il tour de france la lotta poi della tappa decisiva si vada a risolvere a ridurre agli ultimi cinque chilometri di salita al giro se non altro c'è la possibilità di ipotizzarla questa cosa la mattana diciamo il colpaccio da lontano al tour molto difficilmente per cui punto al giro 9 pari tappa finale il giro ci offre la cronometro di verona crono breve sicuramente non trascendentale però comunque è pur sempre una cronometro è pur sempre battaglia tra i big mentre il tour de france con la solida inutile passerella di parigi cede il punto e siamo 10 a 9 per il giro d'italia questo è il finale di questo confronto ora non avevamo dubbi avrebbe vinto il giro bisognava vedere di quanto torno un po sul discorso dei tapponi del tour de france per fare un ragionamento un po più ampio più generale allora che il tour sia un problema per il ciclismo è assodato ormai lo sappiamo perché è l'evento principale del ciclismo la vetrina del ciclismo è alla fin fine poi si risolve in un anti spot perché è noiosissimo le ultime tradizioni sono state terribili dal punto di vista del richiamo popolare si è visto spettacolo quasi zero praticamente in passato qualche volta non è successo ovviamente però il light motive del tour de france è questo ed è assurdo se ci pensiamo che noi sappiamo abbiamo ormai interiorizzato da quanto tempo noi sappiamo questa cosa l'abbiamo ormai interiorizzata come una verità che il tour de france è una cosa noiosa e dovrebbe essere la nostra vetrina allora il prudhomme come detto sta tentando di innovare in qualche modo inserire la buono sul gpm cercare di fare dei percorsi diversi diminuire chilometri al cronometro ma non se ne esce poi vai a vedere il percorso e dici vediamo i tapponi allora tour malet tour malet c'è il tour malet poi tappa di valoir allora io seguo il ciclismo da trent'anni quasi lo seguo in maniera certosina cioè anche da ragazzino mi segnavo i punteggi percorsi quindi tutto in maniera scientifica la malattia mentale non mi ha più abbandonato da tanti anni quante volte avrò visto questo giro del var dell'isoare dell'ialibiera o con altre varianti ma sempre questa proda al galibier con poi arrivo in discesa con attraverso lo stradone il vallone del lotare il col del lotare che è presente oltre ad essere facilissimo a punto di vista altimetrico a questa strada larghissima non favorisce sicuramente gli attaccati poi c'è sempre il vento contrario e questo sarebbe il tappone quello insomma che dovrebbe essere tra quelli decisivi del tour de france ma a un certo punto è ovvio che poi non succede niente di trascendentale ma perché noi il tour lo conosciamo troppo bene nei suoi in tutti i suoi percorsi in tutti i suoi risvolti la riproposizione è sempre delle stesse salite da un lato le rende sicuramente mitiche ma dall'altro con questa fatta con questa frequenza le impoverisce dal punto di vista tecnico perché noi lo conosciamo come le nostre tasche questo vialone questo galibier diciamo in 30 anni ho visto questo giro forse una volta con andy schlek nel 90 nel 2011 abbiamo visto dei risultati importanti su quel tratto del lotare cioè l'uomo solo che riesce a resistere al ritorno del gruppo altrimenti è un massacro come lo sappiamo noi che siamo appassionati semplici appassionati lo sanno ovviamente gli addetti ai lavori quelli che corrono quelli che li guidano in ammiraglia quindi lo sanno bene conoscono troppo bene questo percorso ci sono poche variabili al giro una delle fortune è che si può variare tantissimo si può offrire un finale come quest'anno col passorolle che che salita è però tra il manga nel croce down qualcosa può venire fuori l'anno scorso nel 2017 con quel finale sul grappa e poi sulla salita di fozza abbiamo storto il naso perché non era un finale classico tappone che tanto ci piace però era un finale comunque diverso che proponeva scenari tattici diversi li abbiamo visti c'è stato comunque spettacolo c'è stato comunque l'attacco alla maglia rosa c'è stata la ricerca di alleanze o il trovare alleanze strada facendo c'è stato quel finale dalla vetta di fozza fino all'arrivo palpitante con questo inseguimento che non sapevamo insomma come sarebbe andato a finire da un lato Quintana Nibali dall'alto Pinot che vinse dall'alto Dumoulin con i suoi con i suoi alleati trovati strada facendo per cui il giro può innovare e lo fa va a cercarsi l'arrivo sullo Zoncolano lo Zoncolano sono 15 anni che c'è nel ciclismo del giro d'Italia non di più il Mortirolo sono 30 anni che c'è non lo faceva Coppi non lo faceva Mezzo Gimondi quindi comunque perché il giro riesce a trovare nuove salite nuovi percorsi per appassionare il finestre da quanto tempo c'è in finestre da 15 anni neanche c'è perché il giro ci riesce il turno ci riesce mi dicono o ci dicono perché la carovana del tour è troppo grande quindi non si riesce ad andare a transitare su certe state anche su alcune salite su cui prima si passava ora non si può più andare e allora quando mi dicono queste cose io che cosa devo dire ma lo so che non si dovrebbe perché è volgare però sti cazzi della carovana ma lasciate la valle la carovana fate passare la corsa su salite nuove che possano intrigare che possano dare nuovi contenuti alla corsa al Tour de France e che non siano così conosciute ammenadito da tutti e che possano offrire diciamo possano dare spazio all'incertezza al brivido dell'imprevisto una volta tanto perché il vero problema del Tour de France e quindi del ciclismo tutto è che manca il brivido dell'imprevisto è tutto troppo troppo prevedibile è tutto predeterminabile a tavolino non va bene mi dispiace preferisco e continuo a preferire il giro d'Italia con la sua follia anche un po' casareccia però insomma sempre sicuramente divertente io vi saluto vi do appuntamento alla prossima settimana ciao da ciclo web ciao ciao ciao